Abbiamo vinto 2200 dollari al torneo della Power Cup su Fortnite Ragazzone ragazzone benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video estremamente speciale Questo perché ragazzi oggi ho dovuto vedere un video veramente molto particolare perché come avete capito Ho partecipato al torneo della Power Cup proprio qualche giorno fa Dato che sono stato invitato dal buon Power che ancora ringrazio per l'invito E ragazzi il torneo è stato veramente strepitoso Questo perché intanto il monte premi era di 30.000 dollari Quindi un monte premi veramente estremo E la modalità che siamo andati a giocare era appunto la Doom vs Avengers Quindi una modalità molto particolare dove appunto si gioca in 16 contro 16 E ogni capitano doveva invitare un proprio teammate per la squadra In questo caso io ho invitato la signorina Queen Georgia, la nostra Goblinoide preferita E siamo riusciti a fare un torneo veramente devastante Perché abbiamo fatto su 6 partite 4 vittorie e 2 sconfitte Considerate che ad ogni vittoria si vince appunto 220 dollari E ad ogni sconfitta invece si vincono circa 100 dollari Quindi a percindere da tutto si vince sempre e comunque Però noi con le nostre 4 vittorie e le 2 sconfitte ci siamo portati a casa 1100 dollari a testa Quindi 1100 dollari io e 1100 dollari la signorina Georgina Quindi devo dire che è andato abbastanza bene Quindi preparatevi perché adesso vi andrò a fare vedere le vittorie che abbiamo fatto Perché appunto ogni volta che iniziamo una partita ovviamente andavamo a giocare con persone totalmente diverse E non sapevi mai se eri ovviamente Doom o Avengers Quindi ragazzoni mi raccomando prima di cominciare con il video un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto soprattutto per questo video veramente bomba E mi raccomando ragazzi vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle 17 Quindi mi raccomando io vi aspetto link in descrizione Ora però direi di non perderci in chiacchiere e di passare al video Io vi auguro una buona visione 50 Morto un altro 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 40 laggiù E che chi è che mi... madonna Qua stiamo difendendo bene Non è che vanno dirà Ah l'hai vuoto l'hai vuoto Kicca l'hai vuoto L'hai vuoto? L'altro l'altro cosa Eh cosa faccio? Rimani lì rimani lì Ma ne basterebbe difendere uno in realtà No 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 Kicca Kicca Ok se vuoi rimani lì qua fai dono troppi Devo dare una mano In qualche modo Morto uno Di qua da me nistuno Zero È arrivato Doom Non l'hanno preso Kicca non l'hanno preso Devi venire verso di me o al prossimo Ce l'ho qua uno Da me Ti puscia ti puscia Devo difendere Morto uno C'è Doom C'è Doom E questo è il problema C'è Doom che vuole prenderlo Lo sto prendendo Eh no Di sparare io non posso fare Eh niente Un casino Cioè io ho sparato come non mai Eh non ho già preso due C'è l'artefatto Devo andare là Lo vedi? Non l'ho preso L'altra gemma Andiamo all'altra gemma Non possiamo fare niente Eh sì Ma io ci sto andando in tutte Però sono sola Eh lo so Lo so Non per farci Guarda io ero lontana Ma è suonato proprio lontanissimo Cioè davvero io era troppo lontana Uno quasi morto Ma se si è Morto Sì ho capitano America Uno di vita Quasi morto Quasi morto Dobbiamo continuare a ammazzarli Morto uno Sto difenendo Lo prendono Lo prendono Lo prendono Lo prendono Lo prendono Lo prendono Morto Va là Laggiù dobbiamo andare Dobbiamo Ripped 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 Ok Vai vai Quasi morto Morto No l'ho ucciso Porco di via 20 20 20 Morto Morto 17 Hanno 17 vite 16 L'hanno preso o no No non ancora Dai che la vinciamo Dai che la vinciamo Alla oggi Alla oggi E' finita Morto uno Bravissima 8 8 7 7 Te li collo Te li collo Morto un altro 6 Quattro Quattro Li vedi Li vedi dove sono Qua sotto Morto un altro 3 Dai 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 Che vinta Sono sopra Sono sopra E' Dume E' Dume E' Dume No no 3 player Ancora 3 player Ancora 1 dita Morto 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 Dume Manca No 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 Le robe Manca solo Dume ragazzi Let's fucking go Buono chicca Madonna che hai fatto Let's go Peno male che avevo la OG Ho fatto tutte le chili di stanza Let's go Ski ragazzi Buonasera 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 ragazzi Let's go Ski Grazie per il curry Ma che avevamo giocato tutti bene Raga Benissimi Io ho fatto mid shield Ma Dume è troppo difficile ragazzi Dume è veramente complesso No Dume è facile Se giochi bene Anche secondo me Anche secondo me Dume È forte Ma non devi avere contro Delle persone forti Perché con gli Avengers Devi solo difendere Cioè hai tutto già fatto L'inventario Ma con gli armi Stratforti Che spaccano tutte le build E non c'hai mazza Sì sì è vero Anche secondo me Dume è troppo forte Quindi Primo artefatto Chi lo prende Lo decidi tu E poi danni a rotazione Vi carry ho anche la prossima partita Let's go Let's go Ma adesso ci devono dare un altro codice Sì 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 Sono sempre codici differenti È stato bello È stato bello ragazzi Ma porco zia Però quello di sinistra È vuoto raga Raga il primo che lo prenda Di mente Dume Basta che lo prenda uno bravo Raga Dume Vai 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 Prodiciamo Io violdo Io violdo Io violdo Io violdo Io violdo Mi hai detto raga Lo sto prendendo io No no lasciala 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 Chi c'è la doom Chi c'è la doom Hai fede? Devevo andare A prenderla la bagno Uno di vita Uno di vita Questa qua Non fai tare 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 Sono andando verso l'altra gente ma ragazzi Andiamo 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 raga Subito subito Thank you Morto un Morto un Morto un Morto un Morto un . morto un altro ragazzo anche l'altra gemma se qua troppo piena buona ora anch'io anch'io andiamo insieme andiamo insieme sto venendo quasi fatto ragazzi fatto no manca un secondo subito l'altra gemma se qualcuno in volo con me venga con me morto ma chi capendo questa quanti o dodo di odo dimmi che fatto perfetto l'abbiamo preso una ragazzi subito all'altro subito l'arte dice ha capito dici di vita abbiamo ragazzi che siano lagga tantissimo merda la colonna è l'impulso in casa vabbè è arrivato un propulsore sui denti no lagga troppo lagga troppo si veda eh raga è infatti belle chat e le squadre sono capitate purtroppo veramente fucking unbalanced cioè onestamente erano troppo 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 unbalanced troppo unbalanced SS con doom che comunque c'è le vite limitate è veramente troppo difficile pronto ragazzi pronto buonasera 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 ci rivediamo salve 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 puoi andare ovunque buttati addosso al primo che vedi buona 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 ammazzano le persone uccidete più che potete le persone e combite la gemma sono la gemma io una box una box un po' di uno si crackato uno crackato uno crackato uno un po' di uno stiamo a colpa vado da loro vado da loro vado da loro ragazzi dai ne rekis e di giovanni sta morto una morto un altro po' uno di vita morto 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 tre C'è anche Doom C'è Doom Uccidete Doom, uccidete Doom, uccidete Doom in cielo Ok, lo vedo, lo vedo, lo vedo Arriva Doom, lo pezzucco Qua, 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 qua Ho quasi non conosciuto Quasi crackato Doom Mi sono la gemma, attenzione la gemma ragazzi Io non vedo la gemma Cagato io, la vedo io Cagato Doom, crackato Doom Spammate bolle, spammate bolle Spammate bolle, la gemma se deve Arino, usciti Arino, usciti, lo metto Morto, morto quasi Doom Morto, 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 prete Vado l'altra Un qua, un qua, un qua Morto, morto, morto La gemma, la gemma, la gemma La box, la box, la box La box anch'io, la box anch'io Morto, vado, vado, vado Vengo con te, vengo con te Vado, vado, vado con Arion, vado con Arion Vado, vado con te Morti due morti due Molto uno, morto uno, morto uno Morto, 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 morto Typhon Ok, non responano più, uccidete i più forti Morto, 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 morto Due morti Morto, 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 morto Morto, morto, morto Lasciate Doom per ultimo, uccidete gli scagnozzi Di sti cazzi, lato manca ancora un'altra gemma Morto, morto, morto Morto il player ragazzi però perché non è a ruine delle storie di una un'era storia te lo vedo adesso arriva arriva il buscino il buscino la storia dello spazio però il raga sono da su dunque quindi o cavalli secondo me è proprio le sgoschi comunque comunque casi è grande grande certo che abbiamo peraltro su 445 e viva 4 su 4 no però ragazzi prendiamo la gemma quando sono in fondo una volta veloci molto veloci sono direndo la bolla dove devo salutare le robe lì dentro anche una ma comunque è impossibile no da dove non puoi proprio una sera signori la portiamo a casa la portiamo a casa la portiamo a casa occhio che preda vinciamo 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 andiamo nel primo nel primo morto partire qua morto No no no, ammazziamo anche raga, manca poco Morto un altro Raga, ho otto vite e non rispondo più, quindi ce liamo Arriva un da noi, arriva un da noi, arriva un da noi Raga, si arriva un da noi 81, vai, quasi crackato forse White, raga, white, white Morto, morto tu, nice In bollo, in giro, in bollo da noi Vabbè, vabbè, vabbè Non l'ho detto Bene, 50 Grato, crackato 41 doppio Morto, morto, morto L'escoo Il re delle ciole Morto un altro Arriva, 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 arriva Uno che viene con me da do, uno che viene con me da do Lo soltando, lo soltando, lo soltando, ci stiamo facendo malissimo, malissimo, malissimo Morto uno Tuo lì è white, è quello lì che sta sparando i raggi Ragazzi, il do, quasi crackato Morto Bravissimo No, Giulio Brutto gesto Davvero, ammazzatelo subito che sto così finendo il suo supplizio E siamo a cinque su cinque perse, signori, let's go Cinque uno, cinque uno è un sogno Quattro uno Merda Ma quattro uno Quattro uno Quattro uno Ah, sì, manca una Let's go, let's go, let's go, let's go Uno E non ci sia due Che forte, vincenzo, mamma mia Vado sul secondo, vado sul secondo Sul secondo sicuramente c'è Preda, al cento per cento Io mi ammazzo la scuola di Grimm Qua c'è uno che sta facendo una base Morto, morto, morto uno Eccolo, raga Uno, uno Raga, raga Uno che viene da do, un stat con me Io vado, io vado, io vado Vieni con me, vieni con me, venuto È un bianco questo, un bianco questo Un HB, un HB, un HB Buono, buono, buono Se siete fermi a difendere, raga Piuttosto farmate, piuttosto che sarei fermi Se non ce ne sono Copriamo, stanno arrivando tutti dentro Arrivano, arrivano Mi bucciano tutti, raga Mi bucciano tutti Morto, morto, chiri, morto, chiri Io mi devo far uccidere perché sono con Capitan America Morto, morto, morto Typhon Sono morto anch'io No, raga, no, raga, no, raga Fermatemi Non ho preso, raga Raga, 28 vite, 28 vite Difendiamo bene Siamo uccidere, raga Dovete solo kill, ragazzi Solo kill, solo kill Damai, damai, la riprendiamo anche l'altra, raga Morto, morto, morto Morto, morto, morto Morto, 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 morto La vinciamo, non c'è Abbiamo lasciato la gemma sopra, eh Solo 16, solo 16 È vero, la gemma sopra, raga Raga, ma non c'è nessuno Non c'è nessuno, abbiamo i puntini Non c'è nessuno, non c'è nessuno Morto, morto, morto Non rifuono più, raga Non rifuono più, raga Non rispondo più Possiamo difendere un po' di uno Morto, morto, morto Tutti qua, minciamo il 100% Morto, morto, morto Bravissimo Guarda qua, guarda qua Quasi carcato, quasi carcato I foto 100 Raga, calcato, calcato, calcato Arrivano dalla piume Arrivano dentro Arrivano, arriva un altro Morto, morto, morto Arrivano, arrivano dentro Stanno entrando Morto Doom, bravissimi Arriva l'ultimo artefatto Ragazzi, sopra, sopra, sopra Sono sopra, sono sopra Tranquillo, tranquillo, tranquillo Non ti preoccupare Tanto non so Spana da me Sì, sì, è da noi, è da noi Infatti easy, velo, easy, velo È nostro, è nostro Sì, sì, infatti go È bianco, è bianco Morto Morto, morto A posto raga, manca l'ultimo Mamma mia Marinowski, let's go Bravissime raga Let's go L'hanno giocata bene Chat, ci siamo portati così Teoricamente Tipo 1100 sbombelle Abbiamo fatto quindi 4 win e 2 lose Di cui però 2 dovevano essere win Cioè, facevamo letteralmente 6 a 0 Facciamo Perché le volte che hanno leftato Eravamo sempre Entrambe le volte Marvel E come avete Avenger E come avete visto Gli Avenger sono È troppo più facile vincere Anche se qui Le squadre erano Sbilanciate nel senso che Eravamo in pochi Bravi nella nostra squadra Contro l'altra squadra Che erano tutti quanti bravi Quindi sicuramente con la lead di Predage Aveva fatto una strat Veramente buona Cioè, stavano giocando Veramente bene Stavano veramente facendo I miracoli assurdi Da Doom E da Doom È veramente difficile Però 1100 sbombelle Ce le portiamo in the house Puliti Ma in announcement 2 1186 Ma il match Alla fine Eh sì Avremmo fatto come loro Non c'era Non c'era Uguale come loro Sì sì Let's go E sulla chat Announcement Saretto Ci sta proprio la classifica Che hanno messo Vanno a vedere Quante vittorie Sconfitte Fatte E quanto hai vinto Ma Saretto 800 sbombette a casa 813 euro Dollarini Eh per aver ballato In una casupola Non è male Cosa Sono dollari Sfortunatamente Cos'hai detto Saretto Alti tornei così Magari Sì sì Esatto Ragazzoni Siamo tutti al termine Di questo fantastico video Io spero che vi sia piaciuto Come avete visto Abbiamo fatto 4 belle vittorie E purtroppo Due sconfitte Che erano inevitabili Perché come avrete capito Ovviamente Se sei Avenger Diciamo che vinci Al 99,9% Se invece capitavi Doom Purtroppo Al 99,9% E sconfitta Proprio quasi garantita Però comunque sia 1100 dollari Portati a casuccia Io E 1100 dollari Portati a casuccia Per la signorina Giorgina Quindi è andato veramente Molto molto bene il torneo Come avete visto Questa per l'appunto È la classifica Quella appunto finale E che dire ragazzi Molto molto soddisfatta Del risultato Mi sono divertita tantissimo E ringrazio ancora Power Per avermi invitata Al suo fantastico torneo E che dire ragazzi Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale E vi ricordo Che vi trovate in live streaming Per vedere altri momenti Come questi Tutti i giorni Su Twitch Dalle ore 17 Trovate il link Qui sotto in descrizione Detto ciò ragazzi Ora però noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate Perché chiaramente Ci rivecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Crotomist È tutto Bella a tutti ragazzi Abbiamo visto